Basi militari aperte, la possibilità di effettuare anche visite a bordo delle navi. La Marina Militare di Taranto celebra così la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, una giornata nata nel 2017 con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza e la tutela del mare. Una giornata importantissima perché per noi contribuire a diffondere la cultura del mare in questa giornata nazionale è una cosa a cui teniamo tantissimo e in più una bella opportunità anche per mostrare casa nostra alla popolazione, a coloro che magari ci vedono sempre dall'esterno, oggi poter entrare nella nave e vivere la quotidianità che scandisce il nostro percorso di preparazione alle operazioni che facciamo è qualcosa che ci rende particolarmente felici e anche orgogliosi. Porti aperte anche in arsenale con la mostra storica artigiana alla scuola sotto ufficiali di San Vito nonché alla stazione aeromobili di Grottaglie. Saranno inoltre aperti al pubblico per le visite e alcuni fari storici, tra cui quello di San Vito. Non poteva mancare a questo elenco il castello aragonese di Taranto che sarà visitabile nel corso di tutta l'intera giornata. Con le iniziative messe in atto a Taranto per la Giornata del Mare, la Marina Militare intende rivolgersi a tutta la cittadinanza e promuovere l'importanza del mare come risorsa imprescindibile. Contribuiamo a generare sicurezza nel Mediterraneo in questo frangente particolarmente delicato e lo facciamo in collaborazione con i partner alleati, con le marine più importanti al mondo, gli americani, i francesi, gli spagnoli e gli inglesi, che hanno anch'essi dei gruppi portaerei con i quali collaboriamo in modo sempre più stretto. Grazie.